Lettera agli Ebrei Il Dio, che nel tempo antico aveva parlato ai padri e nei profeti, in una successione e varietà di modi, in questa fine dei tempi ha parlato a noi nel Figlio, che Egli costituì sovrano padrone di tutte le cose, e per mezzo del quale creò l'universo. Questi, essendo l'irraggiamento della gloria e l'impronta della sua sostanza, e portando tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della Maestà nei luoghi eccelsi, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che Egli ha ricevuto in eredità. A quale angelo, infatti, disse mai Dio, figlio mio sei tu, io oggi ti ho generato? E di nuovo, io sarò per Lui Padre, ed Egli sarà per me figlio. Di nuovo, quando introduce il primo genito nell'universo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. E mentre degli angeli, dice, Fa i suoi angeli come venti, e i suoi servi come fiamma di fuoco. Del figlio, invece, Il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei secoli, e lo scettro dell'equità è scettro del tuo regno. Hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò, o Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di esultanza, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, Tu, o Signore, alle origini hai fondato la terra, e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, tu invece rimani, e tutti invecchieranno come un vestito, come mantello li arrotolerai, come una veste, e saranno messi da parte. Tu, invece, sei lo stesso, e i tuoi anni non finiranno. E di quale angelo, disse mai, siedi alla mia destra, fino a che non ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Non sono tutti spiriti servitori mandati al servizio di quelli che erediteranno la salvezza. Perciò bisogna rimanere attaccati con grande diligenza alle cose udite, per timore di decadere. Se infatti la parola pronunciata mediante gli angeli fu garantita, e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come sfuggiremo noi se trascureremo così grande salvezza? La quale incominciò ad essere annunziata mediante il Signore, e fu garantita a noi da quelli che l'ascoltarono, avendo Dio concorso alla loro testimonianza con la sua, mediante segni e prodigi e vari atti di potenza, e con distribuzioni di Spirito Santo secondo la sua volontà. Infatti, non agli angeli ha sottomesso il mondo futuro del quale discorriamo, ma qualcuno ha dichiarato in qualche luogo. Che è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? Tu l'hai per poco abbassato al di sotto degli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore, hai messo sotto i suoi piedi tutte le cose. Infatti, nell'aver sottomesso tutto a lui, non ha lasciato nulla che non gli fosse soggetto. Nel tempo presente, però, non vediamo ancora tutte le cose a lui sottomesse. Contempliamo invece Gesù per poco abbassato al di sotto degli angeli, coronato di gloria e onore attraverso la passione della morte, affinché per la bontà di Dio gustasse la morte per ogni uomo. Infatti, a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, che conduce alla gloria numerosi figli, conveniva perfezionare per mezzo della passione il capo della loro salvezza. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati sono tutti da uno. Per la qualcosa non ha vergogna di chiamarli fratelli, dicendo «Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, inneggerò a te in mezzo all'assemblea». E di nuovo «Io confiderò in Lui». E ancora «Ecco me e i figlioli che Dio mi ha dato». Poiché dunque i figlioli avevano in comune sangue e carne. Anch'egli, nella stessa maniera, partecipò di quelle cose per distruggere con la morte colui che ha il potere sulla morte, cioè il diavolo, e per liberare quelli che erano asserviti per tutta la vita al timore della morte. Infatti, non si è congiunto con angeli, ma schiatta di Abramo prese. Perciò, dovette essere assimilato in tutto ai fratelli, per diventare pontefice misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, per espiare i peccati del popolo. Infatti, per quanto egli ha sofferto, essendo stato egli stesso provato, è capace di soccorrere quelli che sono tentati. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate lo sguardo su Gesù, l'apostolo e pontefice della nostra confessione di fede, il quale fu fedele a colui che lo fece, come anche Mosè lo fu in tutta la casa di lui. Infatti, Gesù è stato fatto degno di una gloria tanto maggiore di quella di Mosè quanto l'onore di chi fabbrica la casa è maggiore di quello della casa. Ogni casa, infatti, è costruita da qualcuno. Ora, chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. Mosè, sì, fu fedele in tutta la casa di lui, come ministro, a testimonianza delle cose che dovevano essere dette. Cristo, invece, come figlio nella casa di lui, la cui casa siamo noi, se però conserviamo la sicurezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori come nell'esasperazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, benché avessero visto le mie opere per quarant'anni. Perciò mi irritai contro questa generazione e dissi sempre si sviano nel cuore. Essi non hanno conosciuto le mie vie, cosicché ho giurato nella mia collera, non entreranno nel mio riposo. Vadate, fratelli, che in nessuno di voi vi sia un cuore cattivo di incredulità nell'allontanarvi dal Dio vivente. Ma esortatevi l'un l'altro ogni giorno, finché si può dire oggi, affinché nessuno di voi sia indurito dalla seduzione del peccato. Siamo infatti divenuti partecipi di Cristo purché conserviamo solida sino alla fine la sicurezza iniziale. Quando si dice oggi se udirete la sua voce non indurite i vostri cuori come nell'esasperazione, chi furono infatti quelli che avendo udito esasperarono. Non furono proprio tutti quelli che uscirono dall'Egitto sotto la guida di Mosè e contro chi Dio fu irritato per quarant'anni. Non forse contro quelli che avevano peccato i cui cadaveri caddero nel deserto e a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che si erano ribellati. Or noi vediamo che essi non poterono entrare a causa dell'incredulità. Temiamo dunque che mentre rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo qualcuno di voi risulti mancante. Infatti anche noi abbiamo udito il lieto annunzio come costoro ma non giovò loro il messaggio annunziato non essendo essi uniti mediante la fede a quelli che ascoltarono. Entriamo nel riposo infatti noi che abbiamo creduto secondo ciò che disse cosicché ho giurato nella mia collera non entreranno nel mio riposo benché le opere di Dio siano terminate fin dalla creazione del mondo. Ha detto infatti così in qualche luogo intorno al settimo giorno e si riposò Dio nel settimo giorno da tutte le sue opere e in questo salmo di nuovo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane stabilito che alcuni vi entreranno e i primi a riceverne il lieto annunzio non entrarono per la loro disobbedienza Dio fissa nuovamente un giorno un oggi dicendo per bocca di Davide dopo tanto tempo come è stato detto prima oggi se udirete la sua voce non indurite i vostri cuori. Ora se Giosuè li avesse introdotti nel riposo Dio non parlerebbe dopo queste cose di un altro giorno è dunque riservato un riposo sabbatico per il popolo di Dio chi infatti entra nel riposo di lui anche egli si riposa dalle sue opere come Dio dalle proprie applichiamoci dunque con premura a entrare in quel riposo affinché nessuno cada nello stesso esempio di disobbedienza la parola di Dio infatti è viva ed energica e più tagliente di ogni spada a doppio taglio essa penetra fino all'intimo dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midolla e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore davanti a lui non vi è creatura che resti invisibile tutte le cose sono nude scoperte agli occhi di colui al quale noi renderemo conto avendo dunque un pontefice grande che ha attraversato i cieli Gesù figlio di Dio teniamoci saldi nella professione della fede non abbiamo infatti un pontefice che non possa compatire alle nostre infermità essendo stato tentato in tutto a nostra somiglianza eccetto il peccato avviciniamoci dunque con sicurezza al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per il momento opportuno infatti ogni pontefice preso di tra gli uomini è costituito in favore degli uomini nelle cose che riguardano Dio perché offra doni e vittime per i peccati essendo capace di usare indulgenza per gli ignoranti e gli sviati dal momento che anche egli è avvolto di debolezza e a motivo di questa deve offrire sacrifici per i peccati come per il popolo così anche per se stesso e nessuno si prende l'onore da se stesso ma quando è chiamato da Dio così come anche Aronne così anche Cristo non glorificò se stesso nel divenire gran sacerdote ma lo fece sacerdote colui che gli disse mio figlio sei tu io oggi ti ho generato come anche in altro luogo dice tu sei sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec il quale nei giorni della sua carne implorò e supplicò con grida vehementi e lacrime colui che poteva salvarlo da morte e fu esaudito per la sua riverenza e imparò da ciò che soffrì l'obbedienza pur essendo figlio e perfezionato diventò per tutti quelli che gli prestano obbedienza autore di eterna salvezza proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec intorno a ciò il discorso per noi si fa abbondante e difficile da esporre perché siete divenuti pigri nell'ascoltare infatti mentre per il tempo dovreste essere maestri invece avete nuovamente bisogno che uno vi insegni i rudimenti degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di latte non di cibo solido infatti chi prende il latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia perché è un bambino invece il cibo solido è dei perfetti i quali per la consuetudine hanno i sensi allenati al discernimento del bene e del male perciò lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo eleviamoci alla perfezione non gettando di nuovo un fondamento di penitenza da opere morte e di fede in Dio di istruzione sui battesimi e sulla imposizione delle mani sulla risurrezione dei morti e sul giudizio eterno questo faremo se Dio permetterà infatti che quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono divenuti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la parola bella di Dio e le energie del mondo futuro e caddero è impossibile rinnovarli a pentimento perché per loro conto di nuovo crocifiggono il figlio di Dio e lo espongono all'ignominia infatti la terra che beve la pioggia che frequente cade su di essa e genera erba utile per quelli da cui è lavorata partecipa della benedizione da Dio al contrario quella che produce spine e triboli è riprovata e vicina alla maledizione e la sua fine è bruciare benché parliamo così tuttavia a vostro riguardo carissimi nutriamo fiducia in condizioni migliori per la salvezza Dio infatti non è ingiusto da dimenticare la vostra opera la carità che voi avete mostrato verso il nome di Lui avete servito e servite i santi desideriamo pertanto che ciascuno di voi mostri la stessa premura per la pienezza della speranza sino alla fine perché non diventiate fiacchi al contrario siate imitatori di quelli che ereditano le promesse mediante la fede e la longanimità Dio infatti nel fare una promessa ad Abramo poiché non aveva nessuno più grande per cui giurare giurò per se stesso dicendo certamente ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò in modo straordinario e così Abramo dopo avere atteso a lungo con pazienza conseguì la promessa gli uomini infatti giurano per uno più grande e il giuramento per essi è una garanzia che pone fine ad ogni controversia perciò Dio si fece garante con giuramento volendo fornire agli eredi della promessa una prova più convincente della immutabilità della sua decisione affinché mediante due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio mentisca noi i rifugiati in Lui avessimo un forte incoraggiamento ad impadronirci della speranza messaci davanti la quale abbiamo come ancora sicura e solida per l'anima e penetrante nella parte oltre il velo dove è già entrato per noi precursore Gesù divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec infatti questo Melchisedec re di Salem sacerdote del Dio Altissimo venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse al quale Abramo assegnò come sua parte la decima di tutto e gli viene interpretato anzitutto re di giustizia poi re di Salem cioè re di pace presentato senza padre e senza madre senza genealogia non avente né principio di giorni né fine di vita assimilato al figlio di Dio rimane sacerdote in eterno considerate quanto grande deve essere colui al quale Abramo diede la decima della parte più eccellente lui il patriarca e quelli tra i figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno ordine secondo la legge di prelevare le decime dal popolo cioè dai loro fratelli usciti come sono dai lombi di Abramo costui invece cheppure non è iscritto nelle loro genealogie ha prelevato la decima su Abramo e ha benedetto colui che aveva le promesse ora è fuori di ogni discussione che viene benedetto il più piccolo dal più grande e qui sono uomini mortali quelli che ricevono le decime là invece è uno di cui è testificato che vive e per modo di dire in Abramo anche Levi che pure ora preleva le decime le ha pagate perché quando Melchisedec si fece incontro ad Abramo Levi era ancora nei lombi del padre se dunque mediante il sacerdozio levitico si fosse raggiunta la perfezione infatti sotto di esso il popolo fu sottoposto a una legge che bisogno c'era ancora che sorgesse un sacerdote differente secondo l'ordine di Melchisedec e non fosse denominato secondo l'ordine di Aronne infatti se viene cambiato il sacerdozio necessariamente avviene anche un cambiamento di legge colui infatti del quale queste cose sono dette è partecipe di un'altra tribù della quale nessuno si è consacrato all'altare è notorio infatti che il Signore nostro è germinato da Giuda della quale tribù Mosè non ha detto nulla trattando dei sacerdoti e tutto ciò è ancora più evidente se sorge un sacerdote differente secondo la somiglianza di Melchisedec il quale è stato costituito non secondo le leggi di prescrizioni carnali ma secondo una forza di vita indistruttibile riceve infatti la testimonianza tu sei sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec infatti il precedente ordinamento è stato abrogato a ragione della sua debolezza e inutilità la legge infatti non condusse nulla a perfezione invece è stata fatta entrare nel mondo una speranza superiore per la quale ci avviciniamo a Dio e in quanto ha ricevuto il sacerdozio non senza giuramento intanto Gesù è divenuto garante di una migliore alleanza gli altri sono divenuti sacerdoti senza giuramento questi invece col giuramento di colui che gli dice il Signore ha giurato e non se ne pentirà tu sei sacerdote per l'eternità e quelli sono divenuti sacerdoti in molti perché la morte impediva loro di rimanere questi invece per il fatto che rimane in eterno ha un sacerdozio non trasmissibile onde può anche salvare per sempre quelli che mediante lui si avvicinano a Dio essendo sempre vivente per intercedere in loro favore a noi occorreva infatti un tale sacerdote santo innocente senza macchia separato dai peccatori innalzato più in alto dei cedi il quale non ha bisogno tutti i giorni di offrire vittime prima per i propri peccati poi per quelli del popolo come i sommi sacerdoti perché questo egli ha fatto una volta per tutte offrendo se stesso infatti la legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza la parola invece del giuramento posteriore alla legge costituisce il figlio reso perfetto per l'eternità il punto centrale delle cose che stiamo dicendo è questo noi abbiamo un tale sommo sacerdote che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli ministro del santuario e del tabernacolo vero che ha fatto il signore non un uomo ogni sumo sacerdote infatti viene stabilito per offrire doni e sacrifici perciò è necessario che anche questi abbia qualche cosa da offrire se dunque fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote essendovi quelli che offrono i doni secondo la legge i quali servono in immagine e ombra delle cose celesti conforme all'oracolo di cui è stato beneficato Mosè quando stava per compiere il tabernacolo guarda dice infatti di fare tutto secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte ma ora Cristo ha ricevuto un ministero tanto più eccellente quanto più eccellente è l'alleanza di cui egli è mediatore la quale appunto è stata fondata su migliori promesse se infatti quella antica fosse stata irreprensibile non si sarebbe cercato il posto per una seconda rimproverandoli infatti dice ecco vengono i giorni dice il Signore e io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda una nuova alleanza non sarà come l'alleanza che ho fatto con i loro antenati nel giorno in cui li ho presi per mano per trarli fuori dall'Egitto poiché essi non rimasero nella mia alleanza anch'io dice il Signore li ho trascurati perché questa è l'alleanza che contrarrò con la casa di Israele dopo quei giorni dice il Signore io darò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo essi non avranno più da estruire ciascuno il suo concittadino e ciascuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande perché io sarò misericordioso verso le loro iniquità e dei loro peccati non mi ricorderò mai più nel parlare di un'alleanza nuova Dio ha reso antiquata la precedente ora ogni cosa che viene resa antiquata e che invecchia è vicina a scomparire certo anche la prima alleanza aveva ordinamenti cultuali come pure un santuario ma terrestre infatti fu preparata una tenda la prima nella quale vi erano il candelabro e la tavola e i pani esposti la quale detta il santo poi dietro il secondo velo vi era una tenda chiamata santo dei santi contenente l'altare d'oro dell'incenso e l'arca dell'alleanza d'ogni parte ricoperta d'oro nella quale vi erano un'urna d'oro che conteneva manna e la verga di aronne che era fiorita e le tavole dell'alleanza sopra di quella vi erano i cherubini di gloria che facevano ombra sul propiziatorio delle quali cose non è ora da discorrere in particolare essendo le cose così disposte nella prima parte del tabernacolo entrano sempre i sacerdoti quando hanno da compiere i servizi del culto invece nella seconda parte entra solo il sommo sacerdote una volta l'anno e non senza sangue che egli offre per i peccati di ignoranza suoi e del popolo così lo spirito santo ha voluto mostrare che non era ancora aperta la via al santuario finché rimaneva in piedi la prima tenda del tabernacolo la quale è parabola del tempo presente secondo essa si offrono doni e sacrifici che non possono rendere perfetto secondo coscienza l'adoratore consistendo solo in cibi bevande e molteplici abluzioni ordinamenti carnali imposti fino al tempo della riforma Cristo però apparso come sommo sacerdote dei beni futuri per una tenda più grande e più perfetta non manufatta cioè non di questa creazione né mediante sangue di capri e di vitelli ma in virtù del proprio sangue è entrato nel santuario una volta per tutte perché ha trovato un riscatto eterno infatti se il sangue dei capri e dei tori e la cenere di vacca aspersa sui contaminati santificano purificandoli nella carne quanto più il sangue di Cristo il quale mediante uno spirito eterno ha offerto se stesso senza macchia a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivo perciò egli è il mediatore dell'alleanza nuova affinché essendo intervenuta una morte in redenzione delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza i chiamati ricevessero la promessa dell'eterna eredità ove infatti vi è un testamento è necessario che venga denunziata la morte del testatore perché il testamento è valido solo in caso di morte dal momento che non ha nessuna forza finché invita il testatore di qui deriva che neppure la prima alleanza è stata sancita senza sangue infatti dopo che da Mosè fu proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge egli preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua e con lana scarlatta e con il sopo ha sperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha prescritto per voi nella stessa maniera ha sperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli utensili del culto e secondo la legge quasi tutte le cose vengono purificate col sangue e senza effusione di sangue non vi è remissione è necessario dunque che le figure delle cose che sono nei cieli siano purificate con queste aspersioni le cose celesti stesse con sacrifici più perfetti di quelli Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo antitipo del vero ma nel cielo stesso allo scopo di presentarsi ora davanti alla faccia di Dio per noi non per offrire se stesso parecchie volte come il sommo sacerdote entra nel santuario ogni anno col sangue di un altro altrimenti egli avrebbe dovuto patire parecchie volte fin dalla creazione del mondo ora invece egli una volta sola nella consumazione dei secoli si è manifestato col sacrificio di se stesso per l'annullamento del peccato e come è stabilito per gli uomini di morire una volta sola dopodiché viene il giudizio così anche Cristo una volta sola è stato offerto per levar via i peccati di molti e apparirà una seconda volta senza peccato per quelli che lo attendono per la salvezza infatti la legge che ha un'ombra dei beni futuri non l'immagine stessa delle cose non può con gli stessi sacrifici che si offrono ogni anno indefinitamente rendere perfetti quelli che si accostano a Dio altrimenti non avrebbero cessato di essere offerti per la ragione che gli offerenti purificati una volta non avrebbero più nessuna coscienza di peccato al contrario in essi ogni anno si rinnova il ricordo dei peccati è impossibile infatti che il sangue dei tori e dei capri tolga i peccati perciò entrando nel mondo dice non hai voluto sacrificio né oblazione ma tu mi hai preparato un corpo non hai gradito olocausti né sacrifici per i peccati allora io dissi ecco vengo nel rotolo del libro è stato scritto di me o Dio per fare la tua volontà anzitutto dice non hai voluto né gradito sacrifici né oblazioni né olocausti né sacrifici per il peccato che vengono offerti secondo la legge poi dice ecco vengo per fare la tua volontà toglie via la prima cosa per stabilire la seconda nella quale volontà siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre e ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno ufficiando e offrendo ripetutamente le stesse vittime appunto perché non possono in nessun modo far sparire i peccati al contrario questi dopo avere offerto un unico sacrificio per i peccati si è assiso per sempre alla destra di Dio aspettando che i suoi nemici siano posti sgabello ai suoi piedi infatti con unica oblazione ha reso per sempre perfetti quelli che vengono santificati anche lo Spirito Santo lo ha a noi attestato infatti dopo aver detto questa è l'alleanza che io stipulerò con essi dopo quei giorni dice il Signore darò le mie leggi nel loro cuore e le scriverò sopra la loro mente soggiunge e dei loro peccati e delle loro iniquità non mi ricorderò mai più ora dove c'è remissione di questi non vi è più oblazione per il peccato avendo dunque o fratelli la confidenza di entrare nel Santo nel sangue di Gesù via che egli ha inaugurata per noi nuova e vivente attraverso il velo cioè la sua carne e avendo un gran sacerdote sulla casa di Dio avviciniamoci di vero cuore in pienezza di fede purificati nel cuore da cattiva coscienza lavati nel corpo con l'acqua pura riteniamo immobile la professione della speranza infatti colui che ha promesso è fedele e facciamo attenzione gli uni agli altri per accenderci a carità e ad opere buone non disertiamo dalle nostre riunioni come costume di alcuni ma incoraggiamoci tanto più quanto vedete che il giorno sta avvicinandosi infatti se noi volontariamente pecchiamo dopo aver ricevuto la cognizione della verità non viene più lasciato un sacrificio per i peccati ma solo un'attesa terribile del giudizio e il furore del fuoco pronto a consumare i ribelli se uno rigetta la legge di Mosè viene messo a morte senza misericordia sulla parola di due o tre testi di quanto peggior castigo pensate che sarà giudicato degno chi avrà calpestato il figlio di Dio e avrà stimato cosa volgare il sangue dell'alleanza nel quale egli è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia noi conosciamo infatti colui che ha detto a me la vendetta io retribuirò ed ancora il Signore giudicherà il suo popolo è spaventoso cadere nelle mani del Dio vivente richiamate alla memoria i giorni passati nei quali dopo essere stati illuminati avete sostenuto una grande e dolorosa lotta da una parte fatti spettacolo con ignominie e tribolazioni dall'altra divenuti solidali con quelli che vivevano così infatti voi avete sofferto con i prigionieri e avete accettato la spogliazione delle vostre sostanze con gioia conoscendo di avere una sostanza migliore e stabile non fate dunque gettito della vostra sicurezza la quale ha una grande retribuzione avete infatti bisogno di pazienza affinché avendo fatta la volontà di Dio raccogliate la promessa perché ancora un poco appena un poco colui che viene giungerà e non tarderà il mio giusto vive di fede se invece si sottrae non si compiace in lui l'anima mia noi però non siamo di quelli che si sottraggono per la rovina ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima la fede è garanzia delle cose sperate prova per le realtà che non si vedono in questa infatti gli antichi hanno ricevuto una testimonianza per la fede noi comprendiamo che i mondi furono formati per una parola di Dio di modo che da cose non visibili è derivato ciò che si vede per la fede Abele offrì a Dio un sacrificio più prezioso di quello di Caino e per esso ricevette la testimonianza di essere giusto perché Dio rendeva testimonianza ai doni di lui e per il medesimo dopo la morte continua a parlare per la fede Enoch fu trasportato in modo da non vedere la morte e non lo si trovò perché Dio lo aveva trasportato prima infatti del trasferimento ricevette testimonianza che era piaciuto a Dio senza fede è impossibile piacere a Dio chi si avvicina a Dio deve credere che egli esiste ed è rimuneratore per quelli che lo cercano per la fede Noè avvisato di cose che non si vedevano ancora preso da timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e per questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede per la fede Abramo chiamato obbedì per andare verso un paese che egli stava per ricevere in proprietà e uscì senza sapere dove andava per la fede trasmigrò verso la terra della promessa come verso una terra d'altri e abitò in tende insieme con Isacco e Giacobbe eredi insieme con lui della medesima promessa aspettava infatti la città ben fondata della quale è stato architetto e costruttore Dio stesso per la fede anche la stessa Sara ricevette forza per generare e ciò anche dopo oltrepassato il limite dell'età perché stimò fedele colui che aveva promesso per questo da questa unica coppia e per di più già morta nacquero figli numerosi come le stelle del cielo e come l'arena che è sulla riva del mare che è impossibile numerare secondo la fede tutti questi morirono pur non avendo ricevuto le promesse ma avendole viste e salutate da lontano e riconoscendosi stranieri e pellegrini sulla terra quelli infatti che dicono tali cose mostrano chiaramente che cercano una patria e se avessero avuto nella memoria quella patria da cui erano usciti avrebbero avuto occasione di ritornarvi ora invece essi aspirano a una patria migliore e cioè alla celeste perciò Dio non ha vergogna di essere chiamato il loro Dio infatti egli ha preparato loro una città per la fede Abramo ha offerto Isacco quando fu provato e stava per offrire l'unico figlio quello che aveva ricevuto le promesse del quale era stato detto in Isacco tu avrai una discendenza perché aveva ritenuto che Dio è potente anche per risuscitare da morte onde lo ricevette anche in figura pure per la fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esau riguardo alle cose future per la fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò sull'estremità del suo bastone per la fede Giuseppe in fin di vita si ricordò dell'esodo dei figli di Israele e diede ordini riguardo alle sue ossa per la fede Mosè alla sua nascita fu dai suoi parenti nascosto per tre mesi perché vedevano il bambino grazioso e non ebbero paura dell'ordine del re per la fede Mosè fatto adulto ricusò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone preferendo essere maltrattato col popolo di Dio piuttosto che avere un godimento passeggero di peccato stimando ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto l'obbrobrio dell'unto perché aveva lo sguardo fisso sulla ricompensa per la fede per la fede lasciò l'Egitto non temendo il furore del re infatti fu costante perché vedeva l'invisibile per la fede fece la pasqua e la spersione del sangue perché lo sterminatore non toccasse i loro primogeniti per la fede essi passarono attraverso il mar rosso come per una terra asciutta mentre gli egiziani avendone tentato il passaggio vi furono sommersi per la fede le mura di Gerico circondate per sette giorni caddero per la fede Raab la meretrice non perì insieme con quelli che furono disobbedienti avendo accolto con pace gli esploratori e che dirò ancora mi mancherà infatti il tempo se vorrò discorrere di Gedeone Barac Sansone Iefte di Davide di Samuele e dei profeti i quali mediante la fede vinsero i regni esercitarono la giustizia conseguirono le promesse chiusero la bocca dei leoni e stinsero la violenza del fuoco furono rinvigoriti dalle infermità divennero forti in battaglia misero in fuga eserciti di stranieri alcune donne ricevettero i loro morti per la risurrezione altri furono torturati col timpano non accettando la liberazione per avere in sorte una risurrezione migliore altri sperimentarono trattamenti ignominiosi e frustate e ancora catene e carcere furono lapidati segati messi alla prova morirono uccisi da spada andarono in giro vestiti di pelle di montone o di capra bisognosi oppressi maltrattati dei quali il mondo era indegno andavano errando per i deserti per i monti e per le spelonche e caverne della terra e tutti questi pur avendo ricevuto a causa della fede una testimonianza non raggiunsero la promessa avendo Dio predisposto per noi qualcosa di meglio perché non arrivassero alla perfezione senza di noi dunque anche noi dal momento che abbiamo una tale nube di testimoni che ci circonda con pazienza corriamo la gara che ci viene messa innanzi dopo aver deposto tutto ciò che appesantisce e il peccato che ci irretisce avendo lo sguardo fisso su Gesù autore e consumatore della fede il quale in luogo della gioia che gli si proponeva davanti si sottopose alla croce sprezzando l'ignominia e ora siede alla destra del trono di Dio infatti ripensate a colui che ha sofferto in se stesso si fatta contraddizione da parte dei peccatori per non stancarvi lasciandovi intorpidire nelle anime vostre finora non avete nella lotta contro il peccato resistito fino al sangue e vi siete dimenticati della esortazione che si rivolge a voi come a figli figlio mio non disprezzare la correzione del Signore e non ti scoraggiare quando sei da Lui ripreso il Signore infatti corregge colui che ama e frusta ogni figlio che egli accoglie per correzione voi soffrite Dio si presenta a voi come a figli qual è il figlio che il padre non corregge? se invece siete senza correzione della quale tutti sono diventati partecipi allora siete dei bastardi e non figli noi avevamo come correttori i padri della nostra carne e li veneravamo non saremo noi molto di più sottomessi a Dio padre degli spiriti per avere la vita? infatti quelli ci correggevano per pochi giorni secondo ciò che loro sembrava bene egli invece per il nostro vantaggio per farci partecipare alla sua santità ogni correzione sul momento è vero non appare causa di gioia ma di dolore ma più tardi porta in cambio un frutto pacifico di giustizia a quelli che sono stati esercitati da essa perciò raddrizzate le mani inerti e le ginocchia paralizzate e fate dritti i sentieri per i vostri piedi perché ciò che è zoppo non abbia a deviare ma piuttosto sia guarito perseguite la pace con tutti e la santificazione senza della quale nessuno potrà vedere il Signore vigilando perché nessuno sia mancante alla grazia di Dio perché non nasca alcuna radice amara e diventi causa di torbidi e per mezzo di questa non siano infettati molti nessuno sia fornicatore né profanatore come Esau che per una vivanda rinunziò ai suoi diritti di primogenitura sapete infatti che in seguito volendo egli ereditare la benedizione fu rigettato infatti non trovò luogo a pentimento nonostante che con lacrime cercasse di ottenerlo voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di palpabile e ad un fuoco ardente né ad oscurità tenebra e procella né a squillo di tromba e a suono di parole tale che quelli che l'udirono supplicarono che non si rivolgesse più loro la parola essi infatti non riuscivano a sopportare l'ordine anche se un animale tocca la montagna sia lapidato e Mosè tanto era terribile lo spettacolo disse io sono spaventato e tremante al contrario vi siete avvicinati al monte Sion alla città del Dio vivente alla Gerusalemme celeste e alle miriadi di angeli ceto trionfante e assemblea dei primogeniti scritti nei cieli a Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti giunti al perfezionamento a Gesù mediatore di un'alleanza nuova e al sangue di aspersione che parla meglio di quello di Abele fate attenzione a non rifiutare colui che parla se infatti costoro non sfuggirono per aver rifiutato colui che promulgava oracoli sulla terra molto meno noi se ci ritiriamo da colui che ci parla dal cielo la cui voce allora scosse la terra ora invece ha fatto questa promessa ancora una volta io farò tremare non solo la terra ma anche il cielo quella ancora una volta mostra il cambiamento delle cose che vengono scosse in quanto create affinché rimangano quelle che non vengono scosse perciò noi che riceviamo il regno che non può venire scosso riteniamo la grazia per mezzo della quale prestiamo a Dio il culto in modo che piaccia a Lui con rispetto e timore infatti il nostro Dio è un fuoco che consuma l'amore fraterno perduri non dimenticate l'ospitalità per mezzo di questa infatti alcuni senza saperlo ospitarono angeli ricordatevi dei prigionieri come se anche voi foste prigionieri con loro e di quelli che sono maltrattati perché anche voi siete ancora nel corpo il matrimonio sia tenuto in onore in tutte le cose e il talamo sia incontaminato Dio infatti punirà sia i fornicatori sia gli adulteri la condotta sia lontana dall'avarizia contenti delle cose che abbiamo al presente infatti egli ha detto io non ti lascerò mai né ti abbandonerò cosicché possiamo dire con fiducia il Signore è mio aiuto non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo ricordatevi dei vostri capi i quali vi hanno predicato la parola di Dio e contemplando l'esito della loro maniera di vivere imitate nella fede Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e nei secoli non lasciatevi trasportare da dottrine varie e peregrine è infatti cosa buona rafforzare il cuore per mezzo della grazia non dei cibi che non giovarono mai a quelli che se ne sono serviti noi abbiamo un altare del quale non hanno potere di mangiare quelli che prestano il loro culto al tabernacolo infatti i cadaveri degli animali il cui sangue per il peccato viene portato nel santuario dal sommo sacerdote vengono bruciati fuori dell'accampamento perciò anche Gesù per santificare il popolo mediante il proprio sangue ha sofferto fuori della porta usciamo dunque verso di lui fuori degli accampamenti portando il suo obrobrio non abbiamo infatti qui una città permanente ma tendiamo alla città che deve venire dunque offriamo a Dio per mezzo di lui un sacrificio di lode continuamente cioè un frutto delle labbra che lodano il suo nome non dimenticatevi della beneficenza e di mettere in comune i beni di tali sacrifici infatti Dio si diletta lasciatevi persuadere dai vostri capi e siate sottomessi essi infatti vegliano per le anime vostre dovendone rendere conto possano fare ciò con gioia e non gemendo questo infatti sarebbe per voi svantaggioso pregate per noi infatti siamo persuasi di avere una buona coscienza volendo in tutte le cose comportarci bene vi esorto con più insistenza a far questo affinché possa essere reso a voi presto il Dio della pace che ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore nel sangue dell'alleanza eterna il Signore nostro Gesù Cristo vi renda pronti ad ogni opera buona per fare la volontà sua operando in noi ciò che piace ai suoi sguardi per Gesù Cristo a cui la gloria per tutti i secoli Amen vi prego fratelli sopportate il sermone di esortazione vi ho scritto infatti brevemente sappiate che il vostro fratello Timoteo è stato liberato con lui se verrà presto vi vedrò salutate i vostri capi e tutti i santi vi salutano quelli dall'Italia la grazia sia con tutti voi così sia grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.